Io guardo il mare è il titolo del concorso fotografico promosso dall'amministrazione comunale di Mola di Bari. Si divide in quattro sezioni, un mare di vita, un mare di ricordi, un mare di paesaggi e un mare da salvare. Possono partecipare al concorso che è totalmente gratuito tutti i cittadini, i turisti, i fotografi e i professionisti e non, inviando le loro immagini entro l'11 settembre 2022, immagini che raccontano del loro rapporto con il mare, immagini rubate andando al lavoro, immagini che erano finora dentro un cassetto. Sul sito www.ioguardoilmare.com potete trovare la domanda di partecipazione e il regolamento completo. Partecipate!